La miscela di oli essenziali Oasis ti aiuterà a trovare quello spazio in casa tua che diventerà una vera e propria oasi di pace. Dopo le giornate stressanti al lavoro o se c'è qualche turbamento emozionale nella tua giornata, diffondi dalle 2 alle 4 gocce di questa miscela per ritrovare la pace delle emozioni. Dentro troviamo due oli essenziali di agrumi, il pompelmo rosa e il lime per donare luce a queste giornate oggiosi d'inverno, due abeti, l'abete di Douglas e l'abete dell'Himalaya per avere più centratura, due menti, la menta spiccata e quella citrata, la menta spiccata detta anche menta dolce appunto ha un aroma più delicato della conosciuta menta piperita mentre la menta citrata o bergamot mint è molto più simile per i suoi costituenti alla lavanda quindi ti donerà un relax rigenerante. Infine il tutto è armonizzato da un fiore tropicale che è la magnolia e che riuscirà ad addolcire le tue giornate. Goditi questa miscela e fammi sapere se è stata in grado di donarti la pace che tanto desideri.